Una vita da jet set, ville con piscina, macchine costose e vacanze in smoking in Costa Azzurra, professione disoccupato. Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato all'arresto di Domenico Basile, 59 anni, originario di Crotone ma residente a Gazzo Padovano. In passato aveva gestito un locale nel Vicentino a Torri di Quartesolo, ora risultava in cerca di occupazione. L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Grattieri, ha però svelato una realtà diversa. L'uomo era il referente della cosca di Cutro, in provincia di Crotone, per la zona di Padova, Treviso e Vicenza. Per conto della famiglia mafiosa dei Manollo, era diventato l'usuraio delle tre province. Prestava infatti soldi agli imprenditori in crisi, vessandoli poi con minacce a loro e alle loro famiglie, mostrando ripetutamente la pistola che portava alla cintura. L'arresto dell'uomo si inserisce in un'operazione che ha portato in cella altre 35 persone, tutte nella provincia di Crotone, a cui sono state contestate l'associazione mafiosa, il traffico di droga, l'estorsione, l'usura e l'intestazione fittizia di beni. Ancora infiltrazioni mafiosi dunque in un territorio, quello del nord-est, che non può più dirsi distante dalle attività criminali dei clan.